In una serata tipica di novembre con nebbiolina e tasso di umidità a livelli estremi, l'Alessandria fa su il derby numero 97 della storia con il Novara, un risultato che premia la maggiore esperienza e forza fisica dei grigi, mentre gli azzurri nel clima da battaglia hanno denotato i difetti tipici di una squadra con tanti giovani. Un match tutt'altro che spettacolare con poche emozioni ed occasioni, dopo le scaramucce iniziali per prima, pericolosa la formazione di casa al minuto 15, cross di Celia da sinistra, conclusione al volo di Arrighini ma la palla è alle stelle. Al ventiduesimo i pericoli per la porta del Novara sono maggiori ma Marchegiani ci mette la punta delle dita e si rifugia in corner sul bel colpo di testa di Eusepi. E' da preludio al gol che si materizza al ventottesimo. Errore in disimpegno degli azzurri, Castellano mette in mezzo e l'ex è di giornata con uno stop a seguire, mette fuori causa Bellic e scarica una diagonale preciso e potente che significa 1-0 Alessandria. Il Novara ha incassato il colpo fatica a reagire ma al trentasettesimo costruisce forse la miglior chance della sua partita. Spunto di Piscitella sulla destra, palla retrata per il rimorchio puntuale di Cassandro che però viene murato. Prima della fine del primo tempo ci prova Capanni dalla media distanza ma per Valentini non ci sono particolari problemi nella ripresa. Ci prova la quarantanovesimo Buzzegoli con una punizione che termina a lato di circa mezzo metro. L'Alessandria al cinquantatresimo vanifica una contropiede che poteva dare ai grigi il raddoppio. Il 3 contro 1 non è gestito benissimo Re Mandrogni con l'ultimo passaggio di Arricchini troppo lungo. Lo stesso attaccante di casa a sessantunesimo manda al Barlin certo Berlick e prova il sinistro a giro. Marcheggiani attento sul ribaltamento di fronte Novara in 10 secondi a tre volte la chance per pareggiare. Prima Bubba trova la grande risposta di Valentini. Quindi Nardi viene murato da Cosenza e poi Bianchi calcia alto da ottima posizione. I ragazzi di banchieri si sbilanciano e prestano in fianco alle ripartenze dei grigi. Al sessantaquattresimo Eusepi calcia da fuori Marcheggiani sventa la minaccia. Minuto 71 lancio di Buzzegoli per alta che viene anticipato in uscita dall'attento Valentini. All'ottantunesimo in sinistro ad uscire di Cagnano dai 25 metri si spegne a lato non di molto. Il Novara ci prova fino all'ultimo ma il risultato non cambia e così i grigi possono festeggiare sotto la curva nord.